Pesaro Urbino si piazza al 25esimo posto fra le province italiane in cui si vive meglio. Questo racconta l'indagine 2022 del Sole 24 Ore sulla qualità della vita pubblicata oggi dal principale quotidiano di economia nazionale che ha radiografato le 107 province dello Stivale. Una fotografia del territorio che il Sole 24 Ore replica da 33 anni e in cui il risultato del nostro territorio è rilevante per una ragione su tutte. Pesaro Urbino infatti dal 2021 al 2022 ha guadagnato bene 31 posizioni in un anno. Nessun'altra provincia italiana si è migliorata tanto negli ultimi 12 mesi. Secondo il Sole 24 Ore è Bologna la provincia italiana in cui si vive meglio in un podio completato da Bolzano e Firenze. Col suo 25esimo posto Pesaro è la provincia marchigiana in cui si vive meglio superata Ancona che resta comunque a ruota al 28esimo posto, più indietro Ascoli Piceno 42esima, Macerata 59esima e Fermo 73esima in una classifica italiana che viene chiusa dall'ultimo posto di Crotone. Il 25esimo posto di Pesaro Urbino è frutto della media di diversi parametri indagati. La sottocategoria in cui la provincia gode del miglior credito è il decimo posto in giustizia e sicurezza entrando così nella top 10 delle 10 province italiane più tranquille sotto il profilo dell'incidenza della criminalità. Molto bene anche la categoria Ambiente e Servizi dove Pesaro Urbino si piazza dodicesima per indice del clima, energie rinnovabili e sostenibilità. Bene anche il dato su istruzione e sanità con Pesaro Urbino al 26esimo posto. Nell'anno in cui Pesaro è diventata capitale della cultura, l'analisi di cultura e tempo libero piazza invece la provincia al 36esimo posto. Nella media nazionale invece il posizionamento in ricchezze e consumi con un 49esimo posto in una classifica che mescola pil pro capite, prezzi delle case e peso dell'inflazione. Sotto la media nazionale è invece il posizionamento in affari e lavoro con Pesaro Urbino 78esima in Italia per quel che riguarda un dato che analizza tasso di occupazione, ore di cassa integrazione, cessazioni di imprese e start-up innovative.